Bentornati al nostro appuntamento qui su Rete8. Oggi parliamo di una importante scadenza che riguarda i datori di lavoro, gli artigiani e i commercianti che risiedono alle zone del sisma 2016-2017. Come voi sapete in quel periodo, subito dopo gli eventi sismici, è stata effettuata la sospensione del versamento dei contributi, sospensione che è andata avanti fino a oggi, nel senso che a partire dal 15 gennaio è avvenuta la ripresa dei versamenti. Vediamo come funziona questa ripresa dei versamenti. Innanzitutto appunto dal 15 gennaio come abbiamo detto e fino al 31 gennaio possono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali per quelle che sono le regioni che erano state colpite dal sisma. Entro il 31 gennaio che cosa possono fare gli eventi diritto? Possono scegliere di effettuare il pagamento in unica soluzione senza sanzioni interessi ovviamente per ritardo, oppure scegliere una rateizzazione in 120 rate senza applicazione anche queste sanzioni interessi. Quindi una duplice scelta che dà la possibilità di optare per la soluzione più semplice. Uno dei problemi che c'era stato nella concessione del precedente sospensione per il sisma dell'Aquila del 2009 era stato il recupero dei utili di Stato da parte della Comunità Europea. Proprio per evitare questo, la importante novità decretata a ottobre è che il riversamento non è per il totale dei contributi sospesi ma nella misura del 40%, quindi se sono stati sospesi 100 euro di versamenti adesso se ne devono pagare solo 40 ma a determinate condizioni. Quindi è importante che queste attività di recupero vengano effettuate registrando i relativi importi nel registro nazionale aiuti di Stato per la quasi totalità delle imprese, per il sistema informativo agricolo nazionale, per il settore agricolo e in via residuale sistema italiano pesca acquacoltura SIPA per il settore pesca. Questa registrazione che riguarda gli aiuti fino a 250 mila euro o con prova del danno subito dal terremoto permette di evitare il recupero dei utili di Stato. Come si effettua il pagamento? È abbastanza articolato, quindi invito i cittadini ad andarsi a vedere il nostro messaggio 78-2020 di pochi giorni fa. Entro il 31 appunto bisogna calcolare l'importo della rata del centoventesimo ed effettuare il pagamento. È importante sottolineare che per il momento in mancanza del riconoscimento nel registro nazionale di questi aiuti bisogna effettuare il versamento al cento per cento nell'ambito della realizzazione e il cento per cento viene scontato sulle rate successive. Invece per quanto riguarda la contribuzione propria, cioè i dotori di lavoro domestici o quelle relative alla gestione separata a carico del prestatore, queste possono già essere abbattute al 40%. Penso di avervi detto in poco tempo abbastanza, più che altro ho fatto sorgere dubbi, queste sono attività abbastanza complesse per cui siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. Ci vediamo nella prossima puntata. Grazie a tutti.